Tomatis, oggi si parla di agevolazione a sostegno degli investimenti innovativi, il tema dell'innovazione è centrale ormai nelle imprese. Questa è una storia vecchia, da sempre l'innovazione è stata al centro di ogni superamento di fase di crisi, ma anche nell'ordinarietà del quotidiano. Questo è il secondo incontro. Prima abbiamo percorso la normativa, la nuova normativa fallimentare, abbiamo formato e ci siamo formati. Adesso facciamo una rassegna generale a tutti gli strumenti possibili, finanziari anche, che sono importanti in questo momento ancora di più a sostegno della piccola e media impresa, che è la nostra platea preferita. Sono conferenze queste che attirano molto interesse e curiosità e lo si capisce anche dal pubblico, perché la sala è sempre piena. Sì, se è così continuo dovremmo trovare una sala più capiente, perché questo è di orgoglio e di soddisfazione, perché pensiamo che questo contatto diretto, che già avviene quotidianamente per ogni altra questione, viene raffinato in questi momenti particolari che dovremmo ancora incrementare e ampliare a livello di capacità. Che logistica! Logistica ricettiva, sì. Siamo al quindicesimo appuntamento delle conferenze in Banca di Caraglio, il secondo del 2019, il secondo è stato ottenuto 15 giorni fa parlando di crisi di impresa con la nuova legge fallimentare. Oggi giriamo pagina e pensiamo al futuro, dobbiamo ricostruire, allora si parla di nuove agevolazioni, finanziamenti agevolati. Le agevolazioni possono essere sia fiscali che in termini finanziari. Lo vediamo questa sera nel salone delle conferenze Don Ramazzino della sede qui di Caraglio della Banca. Lo vediamo con Warren Tab, una società nata nel 1995 che collabora direttamente con la nostra capogruppo Cassa Centrale Banca e stasera è a disposizione qua dei nostri imprenditori e clienti soci. Agevolazioni a sostegno degli investimenti innovativi, nominiamo qualche opportunità a livello nazionale o regionale. Certo, allora siamo prossimi alla approvazione e pubblicazione della prossima legge di bilancio e sappiamo già che anche per il 2020 e 2021 saranno rilanciati e riconfermati gli strumenti principali a disposizione delle nostre aziende e dei nostri imprenditori. Si continua a parlare pesantemente di Industria 4.0, quindi verrà riconfermato l'iperammortamento e tutto il piano per l'esercizio 2021. Continuerà a essere incentivata l'attività di sviluppo di nuovi prodotti per competere anche sui mercati internazionali e quindi si riparla di credito di imposta, ricerca e sviluppo. Viene rifinanziata la Sabatini con un prolungamento fino al 2024, quindi anche per l'accesso a nuove fonti di finanziamento per le aziende ci saranno delle generazioni particolarmente importanti. A livello regionale siamo addirittura d'arrivo del POR 1420, però poi partirà il nuovo piano operativo regionale e ci sono diversi strumenti attivi per tematiche quali partecipazione alle fiere, investimenti, innovazioni di prodotto e ci aspettiamo ulteriori strumenti messi a disposizione sia a livello nazionale che regionale per aiutare le aziende a portare avanti i programmi caldi del momento, quindi efficienza energetica, economia circolare e competitività a livello internazionale.